Un caro saluto a tutti da Andrea Raggini di Emilia Romagna Meteo.com Dopo un inizio di settimana instabile che ha visto qualche rovescio e temporale e anche qualche fiocco di neve sulle vette più alte del nostro appennino la situazione è migliorata nella giornata di martedì. Infatti l'alta pressione contraddistinguerà buona parte della settimana. Infatti i cieli si presenteranno mercoledì e giovedì per lo più sereni o poco nuvolosi con un aumento graduale della nuvolosità inizialmente in appennino Poi dalla giornata di giovedì e venerdì la nuvolosità potrebbe stendersi anche a parte della nostra regione e questo a causa degli alti tassi di umidità in arrivo dall'aria calda in risalita dall'Africa verso la nostra regione. Quindi non sono previste precipitazioni ma i cieli da sereni passeranno spesso al colore biancastro, grigiastro che contraddistingue quindi le risalite di aria calda dall'Africa. Le temperature come detto aumenteranno, i valori minimi si porteranno dai 9-12 gradi di questo inizio settimana ai 13-16 gradi di metà settimana, mentre i valori massimi subiranno un netto rialzo. Infatti tra venerdì e sabato potremo nuovamente avvicinarci e raggiungere la soglia dei 29-30 gradi mentre tra mercoledì e giovedì avremo valori compresi tra 24 e 28 gradi. La ventilazione sarà spesso debole, il mare calmo, poi incerta al momento e alla giornata di domenica perché aria atlantica potrebbe interessare parte del nord Italia e quindi determinare un aumento dell'instabilità al momento soprattutto sull'Emilia centro-occidentale. Ma è ancora presto per parlare del weekend, quindi continuate a seguire sia la pagina Facebook sia il nostro sito www.emilaromagnameteo.com Per ora è tutto, buona settimana da Andrea Raggini.